Buonasera al vostro PayGamer, oggi andiamo a fare un riassunto in quanto riguarda tre partite di Serie A più la partita della nostra squadra del cuore che è il Palermo iniziamo a parlare soprattutto di Serie A e Serie B riassumiamo tutto in un video, spero di riassumere tutto di dire su tutte le cose importanti in questo video vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like, a te la campanella e a te i contenuti vi ringrazio tutto il supporto, ora non perdiamo tempo ma spostiamoci subito su Empor Inter ragazzi, una partita dove è finita 0-3 per quanto riguarda l'Inter vittoria veramente schiacciante, sicura che io sospettavo anche nei pronostici infatti ho dato la vittoria all'Inter nei pronostici mi aspettavo una partita pazza tra Venezia e Udinese infatti è finita 3-2 per il Venezia per quanto riguarda l'Atalanta è finita 2-0 la Juventus è finita 2-2 iniziamo queste quattro partite e poi ci spostiamo su un manto da Palermo è finita 0-0 che c'è tanto da dire in questa partita perché il Palermo veniva da una vittoria siamo scesino giù con un 0-0 abbiamo alti e bassi non mi piace molto tutta la gestione di questa squadra non mi piace tutto il comportamento anche dei giocatori le reazioni, la forma che stanno mettendo in campo ma parliamo su tutto alla fine del video perché ci dobbiamo spostare sulla Serie A sulle squadre molto importanti, le big sono Inter e Juventus Inter vince 3-0 una vittoria schiacciante doppietta di frattesi, gol di Dato Martinez un Inter che abbiamo visto un Empoli completamente disorganizzata prende un'espulsione, resta in 10 un Empoli veramente svogliata che gioca in casa, prende una partita contro una big capisco che stai giocando contro una big però metti a meno anima e cuore in questa partita e almeno cerca di fare un gol cerca di portare un po' di autostima a casa ma nulla di fatto nulla di fatto, ho tanto rammarico si è visto tutto De Cia, posto di Solbaken, Pezzella tanti acquisti fatti in questa squadra ma credimi, credimi ragazzi credetemi ragazzi ma ho visto veramente un Empoli svogliato un Inter veramente economizzato mi hanno annullato un gol all'Inter di Damian poi arriva la doppietta di frattesi e il gol di Dato Martinez che mette questa partita che è iniziata veramente con un modo aggosciante perché se lo vediamo solo una squadra ad attaccare se ne avete tutte le statistiche vi rendete conto tutto dell'Inter che ha fatto ben 15 tiri in porta 78% di possesso palla 6 tiri l'ha fatto l'Empoli ma nulla di importante quanto riguarda questa partita vittoria schiacciantale dell'Inter ora ci spostiamo ad un'altra squadra che tutti dopo il 4 a 4 contro l'Inter si aspettavano una vittoria della Juventus onesto mi aspettavo anche io una vittoria della Juventus ma nei pronosti ci ho messo 1.5 preso subito mi aspettavo tutto la Juventus che dava una reazione in più in questa partita ma si è trovato avanti un Parma veramente veramente tosto che sta dando fila torce pian piano a tutte le big contro il Napoli vi ricordo ha perso 2 a 1 ma ha perso 2 a 1 per colpa del portiere si è fatto buttare fuori perché alla fine se continuava la partita 11 contro 11 il Parma aveva tante chance di vincere la partita col Milan ha vinto 2 a 1 vittoria veramente schiacciante e meritata con la Juventus pareggia 2 a 2 ma stava in vantaggio quindi gol del Del Prato e gol di Somme con un assist di Mann che fa veramente un'ottima partita una Juventus che pareggia con McKennie poi pareggia 2 a 2 con Weah una Juventus che dibora il gol con ancora il Vlaovic davanti alla porta e Vlaovic veramente sta continuando a fare errori questa è la Juventus che non si può permettere questi sono punti che Perdi sta facendo una Juventus che l'ho vista in difficoltà nel primo tempo ma l'ho vista anche un po' di reazione nel secondo tempo ma ho visto anche le occasioni divorate di quanto riguarda Juventus le statistiche parlano chiaro 24 tiri se è una big squadra fai 24 tiri nei segni 2 ti divori 24 tiri tra cui 2 salivano a segni e 22 e 6 tiri in porta 10 fuori 10 fuori significa che Vlaovic quell'azione dove si divore poi il gol davanti alla porta potrebbe essere una grande occasione da gol secondo me questa partita oltre al merito del Palma anche la Juventus la si è divorata si è divorata perché poteva portare tre punti a casa molto importanti dopo il 4 a 4 nel big match contro l'Inter lo 0 a 0 contro il Napoli io mi aspettavo una Juventus che reagiva mi aspettavo una Juventus che portava a casa questa vittoria ma nulla di fatto c'è tanto da rivedere tanto da rifare Diego Motta si deve rimboccare le maniche è una Juventus che crea tanto ma il reparto offensivo è veramente sterile veramente sterile oltre a McKennie e UEA Vlaovic in questa partita si è divorato con un'occasione veramente importante altra occasione l'ha avuta con Senzao che ha fatto una giusta partita ma alla fine scusate lo sbaglio ma alla fine è un argumento sterile contro questo Palma che nonostante tutto è venuto per fare la partita a Torino dovevi chiuderla dovevi vincerla dopo il 4 a 4 che è fatto contro l'Inter mi aspettavo una reazione grandissima da Eureggios non è stato parliamo ora dell'Atalanta che non si ferma più 6 a 1 contro il Verona 2 a 0 contro il Monza va a segno Samazic va a segno Zappacosta un'Atalanta che non si ferma e se ne va al terzo posto Gasperini sta veramente dando un grosso segnale il grosso segnale è quello di provare a qualificarsi in Gbos League è un'Atalanta che mi sta piacendo molto come gioco a pallone se ne avete le statistiche di questa Atalanta parlano chiaro parlano chiarissimo 16 tiri 4 del Monza un Monza che viene dal 2 a 2 contro il Venezia perde questo perte contro l'Atalanta Atalanta che è devastante soprattutto in casa lo stesso Palma 53% Atalanta che mette una formazione importante ora si deve giocare la prossima fin al weekend grandissimi giocatori De Caterie Lucman ricordo Lucman dove dove andare via ma poi è rimasto non si è fatto nulla col Passenger Man sta facendo veramente tantissimo sicuramente in estate verrà cercato tantissimo anche dai Tegli ragazzi sta diventando le bombe di questa squadra per quanto riguarda Monza non c'è nulla a dire squadra veramente sterile inguardabile bisogna veramente cambiare volto ragazzi alcune squadre bisogna cambiare volto bisogna avere una reazione le società devono prendere una decisione perché così rischiano tutte quante di trovarsi negli ultimi posti a lottare per la salvezza per quanto riguarda Venezia-Udinese un'altra squadra come Venezia pian piano fa punti 2 contro il Monza 3-2 contro l'Udinese l'Udinese che vi ricordo ha vinto contro il Cagliari ha rischiato di pareggiare contro il Milan e qua arriva una sconfitta veramente brutta con un'espulsione rimane in 10 Venezia che si porta a casa con il suo attaccante una vittura molto importante è vinta in casa punti molto importanti punti dove l'Udinese poteva andare a quota 19 e ha sperato questa partita che se andiamo vedere la classifica l'Udinese poteva andare al quarto posto superando Juventus Fiorentina e aspettando tutto Lazio e Roma quindi è anche la Fiorentina che gioca domani contro il Geno quindi è un'Udinese veramente piena di sorprese che perde una vince un'altra perde una vince un'altra quindi tre sconfitte due vittorie nelle ultime cinque è un'Udinese che ti fa cinque vittorie un pareggio e quattro sconfitte nelle prime dieci quindi l'Udinese mi aspetta tanto l'allenatore ha messo veramente tanto in campo si vede il gioco che propone l'Udinese ma c'è tanto da rivedere in questa partita che ha anche avuto un po' di sfortuna l'Udinese complemento la Venezia ha vinto 3 a 2 ora ci sforziamo al nostro Palermo ragazzi c'è da permettere una cosa che Palermo iniziamo iniziamo a vedere tutto il calendario i risultati precedenti il Palermo viene da nelle ultime cinque vince la 3 a 1 contro il Sud di Teron perde con la Serenitana pareggio 2 a 2 contro il Modena vince 2 a 0 con la Reggiana e poi ti pareggio 0 a 0 con il Mantua da premettere che col Mantua è una squadra rognosa gli hanno annullato un gol in fuori gioco per farlo di mano un Palermo che gioca con dei giocatori investiti nel mercato per i giocatori che hanno giocato in Serie A ti parlo di Thomas D ti parlo di Ranocchia ti parlo di tanti giocatori che hanno avuto proprio l'esperienza in Serie A e che questa squadra è automaticamente comprata per far bene in Serie B e per provare a qualificarsi in Serie A ma in questo modo tu rischi di restare in Serie B rischi di uscire di nuovo ai playoff perché sai che il playoff è una carne una carne efficina e ti devi fare il mazzo tanto per riuscire a passare ai playoff perché sono tante le incognite e anche se hai la squadra ben organizzata arrivi già stanco perché sono le ultime partite della fine stagione che devi fare quindi partiti in più per 13 tiri e non riesce a segnare possesso palla in Mantua 34% e quanto riguarda il Palermo una partita veramente noiosa non si è visto un gol rimane sullo 0-0 e io mi aspetto tanto per quanto riguarda la reazione nell'allenatore soprattutto gli allenamenti Dionisi deve fare svegliere questi giocatori c'è tanto da fare ragazzi ogni anno c'è sempre un problema c'è sempre un problema in questo Palermo noi in certe volte non si riesce a capire se è veramente il Palermo la squadra o veramente l'allenatore secondo me qui è la squadra che non riesce a esprimersi meglio in questa stagione in questa competizione io spero che si trovi una soluzione mancano tantissime partite siamo solo all'inizio la gara non ci non ci scandalizziamo tutti i risultati non ci non cominciamo a rattristarsi per questi risultati io sono veramente positivo spero che vi è piaciuto il video ci vediamo al prossimo video vi invito sempre a iscrivervi al canale lasciate un like se vi è piaciuto contenuti un Palermo che c'è poco da dire non mi è piaciuto tantissimo in questa partita spero che la prossima dia gioia e speranza e soprattutto una vittoria bene ragazzi buonanotte a vostro programma ci vediamo alla prossima